la suggestione emerge periodicamente come una specie di fiume carsico e quello attuale è uno di quei momenti in cui è riaffiorata il partito unico di centrodestra rifarlo o quantomeno mettere in strada un percorso se ne riparla nei rumor se ne semmai per quanto appaiano evidenti tutte le difficoltà del caso eppure qualche elemento a buon propendere c'è se non altro sul lato lega forza italia i due partiti che sono al governo e non hanno negli ultimi tempi distanze programmatiche evidenti condividono una linea antitasse in economia e per la flat tax condividono il garantismo stante l'impegno di salvini per i referendum radicali che ricorda una iniziativa molto simile del 2013 ad opera di berlusconi sull'immigrazione condividono l'impostazione di fondo salviniana per quanto in questo caso qualche esponente di forza italia con delle inclinazioni più libera l'abbia storto il naso così come c'è un'area dura e pura della lega che tiene il punto su una certa ostilità alle architetture europee laddove invece forza italia è pilastro del ppe in questo quadro non vanno trascurate alcune istantanee che parlano come quella scattata nella nuova residenza di berlusconi nelle settimane in cui si svolgevano le consultazioni tra i partiti per la formazione del governo draghi il leader di forza italia è quello della lega seduti assieme a beneficio di obiettivo fotografico non era difficile intravedere in questo fermo immagine una sorta di continuità tra i due leader che in questi giorni si ritaglia su varie ipotesi una federazione forse o magari un partito unico riprovandoci con che l'esperienza aggiornata ai tempi e ai protagonisti che fu il pdl il partito unico del centrodestra nato dall'accordo tra berlusconi fini e i cespugli moderati un'avventura che dopo appena un anno cominciò a perdere pezzi